C'è anche la fanzina del Vizema, la bianca Camigliani che vuole la finale A e nei quattro si tocca, si tocca, però attenzione perché Canziani, Canziani e poi salvati, salvati nel paralaggio, c'è Luigi, c'è Luigi per la finale A e noi andiamo a vedere la terza posizione del Beslate con il fusilio e poi ancora il carruate Peccato la caduta sulla prima linea Un applauso alla fretta del Garlate, scivolate purtroppo